Sulla pagina di Repubblica stamattina viene riportata la testimonianza di una madre di Foggia che ha dichiarato di aver versato circa 5.000 euro ad un sindacato per far lavorare il figlio presso una fabbrica dell'indotto FCA di San Nicola di Melfi. Sebbene assolutamente non in relazione tra loro, la notizia fa il paio con il grido di allarme lanciato dal vescovo della diocesi di Melfi, Rapolla Venosa, Gianfranco Todisco, circa un presunto giro di tangenti in atto presso l'indotto FCA ex Sata per favorire le assunzioni di giovani disoccupati. A seguito delle dichiarazioni di questa madre, il pubblico ministero di Foggia, Antonio Laronga, ha archiviato il fatto giudicandolo penalmente irrilevante. Il sindacato chiamato in questione la Fismic, che ha sospeso il diretto interessato. Sentiamo da Roma, direttamente per News24.sit, il segretario generale Fismic Di Maulo. Noi siamo venuti a conoscenza soltanto stamattina del fatto che due anni fa la procura di Foggia ha sostanzialmente accertato che uno dei nostri delegati RSA di Melfi ha favorito le assunzioni attraverso l'addazione di denaro. Pratica che ritengo aberrante, illecita, brutta, orribile, orrenda, da condannare senza nessun tipo di esitazione da parte nostra. E come tutti noi stamattina io mi sono dovuto in qualche maniera innanzitutto documentare e poi subito dopo replicare. Noi siamo totalmente estranei. Abbiamo stamattina sospeso con effetto immediato e a tempo indeterminato Vincenzo Mauriello, delegato RSA della nostra organizzazione, da tutte le sue funzioni. Ovviamente aspettiamo che lui faccia le contradduzioni per poi prendere decisioni definitive. Il nostro statuto prevede anzitutto lo strumento della sospensione immediata in questi casi per tutelare il nome della nostra organizzazione. Abbiamo affermato con forza la nostra estraneità e abbiamo anche detto alla magistratura inquirente di Melfi, che è stata messa allerta dalle dichiarazioni del Vescovo Dodisco di essere totalmente a disposizione per qualunque approfondimento. Anzi abbiamo chiesto di essere ascoltati dalla magistratura di Melfi per mettereci a disposizione della giustizia e di far finire queste pratiche bruttissime di caporalato che non devono trovare nessun tipo di esitazione da parte nostra. Noi vogliamo tutelare al massimo il nome della nostra organizzazione, organizzazione che ha concluso un congresso all'insegna dell'onestà e della trasparenza e inoltre con uno slogan che è stato preciso, ovvero sia che i giovani oggi devono trovare lavoro sulla base della loro professionalità e sulla base di pari opportunità e perché devono conoscere qualcosa i giovani per trovare lavoro e non perché conoscono qualcuno. Questo l'abbiamo detto con chiarezza, lunedì mattina io sarò insieme alla struttura dirigente di Melfi e Basilicata ad incontrare le RSA di Melfi nella sede di via Tibia di Napoli a Melfi. Alle ore 12 faremo una conferenza stampa con i giornalisti perché vogliamo far trionfare la nostra totale onestà e trasparenza nel portare avanti il lavoro sindacale. La Fismic è un sindacato che ha 60 anni, è un sindacato che ha sempre operato a favore dei diritti dei lavoratori, a favore dei diritti di coloro che è un lavoro, lo cercano.